Ciao, benvenuto nel Parco Nazionale del Circeo. Sono Paola e sono un'aquila di mare, una delle specie di uccelli presenti nel parco. Ti guiderò alla scoperta delle bellezze storiche e naturali presenti all'interno del parco. Questa visita permette di avvicinarsi a temi fondamentali, come la tutela della biodiversità, l'importanza delle zone umide e del bosco per la vita di tutti noi. Viaggiando insieme a me in alcuni luoghi del parco avrai la possibilità di conoscere, scoprire e approfondire questi temi, grazie all'osservazione diretta. Per prima cosa cerchiamo di orientarci. Ci troviamo all'interno del Terzo Parco Nazionale più antico d'Italia, situato sulla costa del Lazio Meridionale che affaccia sul Martirreno. Il Parco Nazionale del Circeo è nato nel 1934, con lo scopo di proteggere piante e animali, di conservare il territorio e le bellezze del paesaggio e di promuovere il turismo. Appena costituito, il parco non era così come si presenta oggi. Il cuore del parco è, infatti, la foresta chiamata la Selva di Circe, ciò che rimane dell'antica selva di Terracina, un tempo molto più ampia. Oggi il parco si estende per 8400 ettari e ha un'altitudine compresa tra 0 e 541 metri sul livello del mare. Ti starai chiedendo perché si chiama Circeo? Il nome deriva da Circe, la maga dell'Odissea che, secondo la leggenda, trasformò i compagni di viaggio di Ulisse in maiali, dopo averli attratti con una voce melodiosa nella sua dimora. Il parco, nonostante la sua dimensione ridotta in estensione, non è certamente meno ricco degli altri parchi nazionali, in fatto di bellezze naturalistiche, ambientali, culturali e monumentali. Una approfondita esplorazione del parco richiede tempi lunghi e, per te che non voli come me, una buona dose di impegno per percorrere sentieri a piedi. Io ti guiderò alla scoperta del lago di Fogliano, per poi passare alle dune e fermarci alla riserva di popolamento dei Pantani dell'Inferno. Ci inoltreremo nella selva di Circe e, dirigendoci verso il promontorio, faremo una pausa a Sabaudia. Partiamo dal lago di Fogliano. Questo è uno dei quattro laghi costieri del parco. Partendo da nord, incontriamo il lago di Fogliano, il lago dei Monaci, il lago di Caprolace e il lago di Paola o di Sabaudia. I quattro laghi occupano una superficie di circa 1100 ettari. Il lago di Fogliano è il più esteso dei laghi costieri del parco. Ha una superficie di 4 chilometri quadrati ed un perimetro di 13 chilometri. È lungo 5 chilometri e presenta una profondità massima di 2 metri. In passato non si presentava così come lo vediamo ora, ma aveva una forma molto diversa. Quella che ha oggi è dovuta infatti all'opera dell'uomo. Il fosso della Cicerchia raccoglie le acque dai canali vicini e le porta nel lago. Il lago di Fogliano comunica con il mare attraverso i canali. Sul lago si possono fare diverse attività. Si può visitare il borgo posizionato sulla sponda orientale, uno dei pochi centri della pianura pontina abitato sin dai tempi antichi. Qui nel 1294 la famiglia Caetani costruì una delle sue residenze. Oggi il borgo è sede di un orto botanico dove è possibile osservare piante provenienti da tutto il mondo. Per gli ambienti esotici che ospita è stato spesso usato come set cinematografico. Quando Fogliano è molto affollato d'estate mi piace sorvolare sul laghetto Registri un po' più a nord. Il lago più piccolo dei quattro è il lago di Monaci che ha una superficie di poco inferiore a un chilometro quadrato, un perimetro di 3,5 chilometri, una lunghezza di 1,5 chilometri e una profondità massima di 1,2 metri. È alimentato dalle acque del rio Martino, canale che nasce sulla sponda destra del fiume Sisto e dal canale Acque Medie che ha origine vicino Latina dall'unione di vari torrenti. Proseguendo verso sud incontriamo il lago di Caprolace che raccoglie le acque della bonifica pontina e le porta al mare attraverso una serie di canali, il principale dei quali è il Nokia che sfocia presso Sabaudia dopo un percorso di 5 chilometri. Il lago ha una superficie di 2,3 chilometri quadrati, è lungo 4,6 chilometri e ha una profondità massima di 3 metri. Sulla sponda di questo lago possiamo visitare la riserva di popolamento dei pantani dell'inferno, istituita per proteggere la zona e permettere ai tanti uccelli che come me passano di qui di riposare, passare l'inverno e fare il nido. Tra gli uccelli presenti ci sono molte specie della famiglia dei trampolieri, sempre più rari a causa della riduzione degli ambienti a loro adatti. A questa famiglia appartiene anche il fenicottero rosa che solitamente passa l'inverno nel parco. Facciamo ora una sosta alle dune che separano i laghi dal mare. La parola duna deriva dall'olandese dune che significa piccolo rilievo. La duna è una collina di sabbia modellata dai venti e costituisce una barriera protettiva tra la terra e il mare. Qui le condizioni di vita sono estreme quasi come quelle del deserto. Temperature che possono raggiungere i 50 gradi, vento forte, salsedine, aridità. Eppure qui troviamo il popolo della duna composto da piante e animali che riescono a sopportare queste condizioni così difficili e trasformano la duna in un deserto verde. Andiamo a vederne una più da vicino, ma facciamo attenzione, utilizziamo le passerelle di accesso per non disturbare il loro fragile equilibrio. I lati delle dune che si affacciano sul mare sono meno protetti e ospitano specie che si adattano al sale. A pochi metri dal mare troviamo le prime piante che hanno le radici nella sabbia. La gramigna delle spiagge, l'erba medica marina, la camomilla marina, il ginepro coccolone, così difficili e trasformano la duna in un deserto verde. Andiamo a vederne una più da vicino, ma facciamo attenzione, utilizziamo le passerelle di accesso per non disturbare il loro fragile equilibrio. I lati delle dune che si affacciano sul mare sono meno protetti e ospitano specie che si adattano al sale. A pochi metri dal mare troviamo le prime piante che hanno le radici nella sabbia. La gramigna delle spiagge, l'erba medica marina, la camomilla marina, il ginepro coccolone. La macchia mediterranea raggiunge il suo massimo sviluppo sul versante della duna che si affaccia sui laghi dove è presente il corbezzolo, il ginepro fenicio, il caprifoglio, il leccio. Le piante non sono le uniche ad abitare la duna. Troviamo anche molti animali come i coleotteri, le lucertole, il gabbiano reale e il coniglio, molluschi e tipi di conchiglie tra cui la teba pisana che grazie alla sua corazza molto spessa riesce a supportare le elevate temperature. Un altro abitante della duna è il formica leone che scava delle fosse a forma di imbuto dove cattura le sue prede. Proseguendo con la nostra visita arriviamo all'unico esempio di foresta di pianura con vegetazione naturale. La selva di Circe, estesa per 3260 ettari, rappresenta la testimonianza dell'antica selva di Terracina formatasi su una vecchia duna costiera sviluppatasi nel corso dei tempi. Nel bosco sono presenti ancora oggi, nonostante la bonifica, ampie aree denominate piscine stagionalmente inondate dalle piogge. Un ambiente unico che è stato inserito nel 1977 nella rete delle riserve della biosfera del programma UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Oltre alle varie specie di quercia, dal cerro alla farnia, dal leccio alla sughera, dalla roverella al carpino nero e bianco, nella foresta del Circeo c'è un sottobosco ricco di oltre 800 specie, tra cui l'erica arborea escoparia, il pungitopo, la felce aquilina e belle fioriture di ciclamino. L'animale più diffuso nella foresta è il cinghiale, ma sono presenti anche tassi, volpi, lepri, ricci e numerosi rettili e anfibi. Ora sorvolo il bosco. È facile riconoscere un bosco. È un ambiente naturale caratterizzato dalla presenza di alberi. Nel bosco possiamo vedere e trovare numerose forme di vita a partire dalle piante, alberi, arbusti ed erbe che ospitano e formano un vasto numero di specie. Il bosco si presenta con diverse forme, a seconda delle differenti condizioni ambientali in cui si trova. Terreni più umidi o più asciutti, aree più calde o più fredde, zone di pianura o montagna. L'Italia, per la sua varietà di ambienti, ospita tanti tipi di boschi ricchi di specie diverse. Il bosco ha tante funzioni sia per i processi naturali sia per l'uomo. Il bosco è caratterizzato da una varietà di forme di vita e quindi contribuisce a conservare tante delle specie e degli ambienti che popolano il mondo. La biodiversità protegge il suolo dall'erosione e contribuisce a rendere più puliti aria e acqua. Fornisce legno e tanti prodotti utili all'uomo, come erbe, frutti e funghi. Ispira tante forme di arte ed è legato alla cultura e alle tradizioni di tanti popoli. Inoltre, fare una passeggiata nel bosco ci fa sentire bene. Vicino al bosco della selva di Circe si trova la città di Sabaudia, nata insieme al parco sulle rive del lago di Paola, progettata nel 1933 da alcuni architetti vincitori di un concorso bandito dall'ente gestore della bonifica. Il risultato rappresenta uno dei migliori esempi di architettura razionalista italiana, una parola difficile per indicare edifici e strade dalle forme regolari e squadrate. La prima pietra fu posta il 5 agosto del 1933 e dopo 253 giorni il lavoro fu concluso e la città inaugurata il 15 aprile del 1934. Se avete voglia di fare una passeggiata, potete entrare a Sabaudia attraverso una via alberata, via Principe di Biancamano, che conduce alla piazza principale dove è possibile ammirare il palazzo comunale e soprattutto la torre. Entrambi gli edifici sono rivestiti interamente dalla pietra di Travertino. Appena fuori dall'abitato di Sabaudia, un luogo interessante da visitare è l'area intorno alla chiesa di Sorresca, sulle sponde del lago di Paola. La chiesa si trova in una posizione suggestiva. È un monastero benedettino che ospita mostre e manifestazioni. Secondo una tradizione popolare, alcuni pescatori trovarono nel lago di Paola la statua di una Madonna, che venne collocata in un primo momento in un edificio sacro di San Felice Circeo. Durante la notte la statua sparì e venne ritrovata poco dopo, nel lago dove era stata recuperata. I pescatori la presero nuovamente e la collocarono nella chiesa di Sorresca, pensando di interpretare la volontà della Madonna di rimanere nelle vicinanze del lago. Il nome della Sorresca significa infatti risorta dalle acque. Approfittiamo di questa leggenda per descrivere il lago di Paola, che si presenta con una forma allungata dai bordi irregolari. È lungo 6,7 chilometri ed ha una superficie pari a 3,9 chilometri quadrati, un perimetro di 20 chilometri e una profondità media di circa 4 metri, con punte massime di circa 10 metri nella fossa della Molella. Il lago ha cinque bracci, ciò che rimane dei letti di antichi fiumi, e comunica con il mare attraverso due canali. A sud la foce di Torre Paola, a nord la foce del Caterattino. L'acqua dolce arriva nello specchio d'acqua grazie alle sorgenti e ai canali di raccolta di acqua piovana realizzati durante la bonifica. Sulla riva del lago, in località Palazzo, si trovano i resti della villa di Domiziano, fastosa villa imperiale del I secolo d.C. Il luogo fa parte della riserva naturale Rovine di Circe, una delle zone più interessanti del Lazio da visitare. Caratteristica della villa è il complesso sistema di raccolta e distribuzione